Buongiorno a tutti, vediamo se partono tutte le dirette correttamente. Sono l'educatore cinofilo e ogni giovedì alle ore 11 faccio una diretta dedicata al mondo del cane, affrontando sempre nuovi interessanti argomenti. Oggi però non vi voglio parlare di un argomento dedicato magari a qualche problema da risolvere, diciamo così, ma voglio... Aspettate, scusate che c'è qualche problemino con una delle dirette. Perché? Perché oggi ho un po' di problemini in generale e non capisco come mai, va bene. Dicevo, oggi non parleremo di un problema da risolvere con il nostro cane o con il nostro cucciolo, ma parliamo di fare il regalo di Natale. Ok, vediamo se ce la faccio. Di fare il regalo di Natale al nostro cane, quindi ho selezionato alcune idee molto carini, ma soprattutto utili, quindi non cavolate varie che vi potete trovare tranquillamente ovunque, da poter regalare sia al nostro cane, sia, vedremo qualcosina dedicata anche a noi, diciamo così, sia ad amici, parenti, familiari che hanno cani a cui vogliamo fare un regalo carino originale. Ovviamente non parliamo di giochini vari, eventuali, diciamo classici, ok? Ma vi spiego di sicuro, appunto, ho selezionato alcuni giochi sicuramente molto belli e utili e poi vediamo anche altre cosine interessanti. Prima di iniziare vi ricordo che c'è un video dedicato, poi ve lo linko in descrizione sotto al video sul canale YouTube, dedicato a come salvare l'albero dalle attenzioni del nostro cane, molto utile, andate a vederlo, così almeno, appunto, visto che tutti abbiamo fatto in questi giorni l'albero di Natale, ci sono tanti consigli utili su come fare in modo che il nostro cane non lo distrugga e anche il nostro gatto, se avete un gatto. E poi, altra cosa che vi voglio ricordare, andate sul sito addestramentocanimilano.org, nella sezione guide, potete trovare la guida ai giochi per cani totalmente in regalo, gratuita, quindi basta che vi iscrivete a Newsletter WhatsApp e vi arriverà gratuitamente la guida, che già è un piccolo regalo dove ci sono scritti tanti utilissimi giochi, tra cui alcuni che andiamo a vedere adesso. Perfetto, vi ricordo anche che durante la diretta potete scrivere nei commenti se avete idee, regalo, carine, simpatiche che volete segnalare. Allora, iniziamo subito, partiamo appunto, ovviamente, dai giochi, però, vi ripeto, ho selezionato alcuni giochi particolari che magari non tutti hanno o che avete in versioni diverse, diciamo così. Adesso ci spieghiamo meglio. Vi farò vedere ciascun gioco, ciascun elemento in generale, ciascun possibile regalo di Natale, direttamente da delle foto prese online, così almeno ci capiamo quando vi spiego le cose. Prima di tutto parliamo della classica pallina, pallina a tennis, vediamo se riesco a farlo vedere bene a tutti. Meglio. Mi sembra una norma molto famosa, appunto è diventata famosa negli anni per creare giochi molto resistenti per cani, e in più fa squeak squeak, che è una gran bella cosa per tantissimi cani, quindi la stringiamo, che è una cosa bellissima, che tante palline, e soprattutto economiche, ovviamente, non hanno come plus. Attenzione, vi ricordo che non dovete mai giocare con una pallina sola con il vostro cane, ma sempre con almeno due, in senso che danciamo la prima, il cane va a prenderla, poi se non ce la riporta, noi non dobbiamo correre dietro al cane, o arrabbiarci per farle lasciare, ma avremo la seconda pallina in mano, poi vi linko anche l'articolo dedicato a come giocare con la pallina con il vostro cane, perché appunto avremo la seconda pallina in mano, facciamo vedere che la seconda è più bellissima, ce la diamo in mano noi, è stupenda, quando molla la prima pallina, lanciamo la seconda, e così andiamo a prenderci la prima pallina, e il gioco può continuare, perciò non state a impazzire con una sola pallina, ne prendete almeno due, anzi, qualcuna in più, perché dovete avere le scorse quando magari perdete qualche pallina per strada, e si gioca sempre però con due palline. Altra attenzione riguardo alle palline, questo vale in generale per tutte, non soltanto questa qui della Kong, non lasciatele a disposizione del cane al di fuori del gioco di lancio, perché sono comunque palline distruttibili, anche questa qua della Kong, che è molto resistente rispetto a una cinesata, è ovviamente distruttibile, se il cane va lì e inizia a rosicchiarla, a strappare via la lanetta, perciò non lasciatele a disposizione del cane, ma le utilizzate soltanto nel momento in cui volete fare il gioco di lancio insieme a voi, gioco attivo. E altra cosa, non andate a prendere le palline, quelle vere da tennis, perché sono ricoperte con un sottile strato di una sostanza che aiuta nel tennis, che però è tossica e cancerogene per i cani, quindi assolutamente evitate quelle da tennis vere. Poi, 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 vediamo che cos'altro abbiamo come potenziale regalo di Natale. Giochi masticabili, quindi tutto ciò che rientra in quello che noi diamo al cane da masticare e che non si distrugge o sì. Parliamo delle due categorie. Allora, c'è una categoria di prodotti, diciamo, di giochi, che sono indistruttibili, sono pochissimi. Tra questi rientra, per esempio, questo oso ormai è diventato famoso corno di cervo, vediamo se lo vedete bene tutti. Sono giochi indistruttibili, nel senso che il cane può starci anche delle ore, il massimo che fa, magari, un cane con un forte morso è scalfire l'osso di cervo. Tra questi rientrano anche la radice derica, oppure semi indistruttibili, diciamo così, c'è anche il legno della pianta del caffè. Questi qua sono tutti... Sono tutti giochi, ovviamente, commerciali, non è che li trovate in giro, meno che non trovate un palco di corna di cervo, a volte capita qualcuno se va in giro nei boschi, ma altrimenti sono tutte cose che trovate tranquillamente sia online, sia nei negozi per animali. Sono giochi, dicevo, indistruttibili, nel senso che il cane al massimo li rosicchia un pochettino, che non è un gioco che il cane mastica e poi se lo mangia letteralmente. Tra questi c'è anche il Marrobone, non ce l'ho da farlo vedere, ma dopo vi linko l'articolo dedicato a tutti i giochi indistruttibili, così li vedete tutti. Sono ottimi per quei cani che amano masticare e a cui volete dare qualcosa per soddisfare questo bisogno, che però non venga mangiato letteralmente. Attenzione, il Marrobone, per esempio, aspettate che ve lo cerco subito, perché effettivamente non l'ho messo tra quelli da farvi vedere, è l'unico gioco realizzato in nylon, nel senso in materiale non naturale, davvero indistruttibile. Tutti gli altri, ce ne sono tantissimi pubblicizzati, anche se andate, ecco, ve lo faccio vedere subito, il Marrobone, giusto per capire, comunque lo trovate nell'articolo dedicato ai giochi indistruttibili. Questo qua è l'unico gioco realizzato in materiale non naturale indistruttibile. Tutti gli altri che vedete sono distruttibili. Ce ne sono tantissimi che hanno creato a forma di osso, a forma di pupazzo, a forma di pesce, eccetera. Sempre penso in nylon, in qualcosa del genere, ma sono andata a leggermi sempre le recensioni, ecco, usate tantissime recensioni prima di comprare qualsiasi cosa per il vostro cane, ok? Perché sono quelle che vi dicono, questo gioco qua l'ha testato già qualcun altro e ha avuto risvolti positivi o negativi. Quindi tutti gli altri no, assolutamente, non credevi, sono tutti distruttibili. Ci sono cani che si sono ingoiati pezzi e pezzi di gioco. Il Marrobone no, è un materiale veramente iper-ultra resistente. Quindi dicevo, giochi indistruttibili, da rosicchiare, da rosicchiare anche quando siamo fuori casa, solo se siamo sicurissimi che non riesca a distruggerlo, perché vabbè, bisogna sempre pensare al caso in cui abbiamo un cane con una stretta così forte, con una tenaglia e ci spacca qualcosa, anche molto duro, appunto, come corno di cervo, però altrimenti, se siamo sicuri, possiamo andare anche mentre siamo fuori casa. Invece, giochi masticabili, che sono l'altra faccia, diciamo, della medaglia dei giochi di masticazione che vanno ad adempiere al bisogno del cane di masticare, ma che vengono poi mangiati proprio fisicamente. Ovviamente durano di meno di giochi indistruttibili per cui il cane se li mangia. Che cosa saranno mai queste cose qua? Per chi magari ha le orecchie di maiale, ci sono i maiali invece più piccolini e poi mille e mila varianti di pezzi di pelle, pezzi di trippa, poi cos'è che c'è, le tracchee, da quando si è diffusa la barfa, poi l'alimentazione è bassa e tutte queste varianti sono sempre andate aumentando. Quindi trovate tantissimi masticabili naturali più o meno duri. Un altro che vi volevo far vedere che mi è venuto in mente è questo qua, sono i nervi di bue, sono tra i primi masticabili che sono usciti in commercio. Sono molto duri, durano parecchio, di solito i cani, molto buoni, ottimi per appunto far masticare il nostro cane. Questi qua sono elementi che più o meno duri, il cane comunque in un certo periodo di tempo riesce a masticarli e a mangiarli, ma va benissimo perché sono comunque cose naturali come se fosse semplice carne essiccata, pelle essiccata, eccetera. Poi, 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 continuiamo sulla sezione giochi, sì, parliamo di un altro gioco attivo che non tutti utilizzano oppure alcune persone utilizzano male e altri hanno smesso di utilizzarla per sentito dire, diciamo così. eccola qua, vedete questo bellissimo lato, la parte della torna o 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 la parte della torna perché dico che tante persone la utilizzano e ok, bravi, bravissimi, prendetemi a quando una misura che sia adatta alla bocca del vostro cane e che voi riusciate a tenere bene dalle due estremità. Alcune persone hanno provato utilizzarla ma poi hanno smesso perché c'è questo mito e leggenda che il cane diventa aggressivo semplicemente perché quando giocate di solito al tira e molla con questa treccia il cane magari ringhia mentre giocate ma bisogna ricordare che non è perché il cane sta diventando aggressivo ma è proprio una modalità di gioco quindi siamo nell'ambiente gioco e per il cane ringhiare in quel momento fa parte del gioco non è aggressività. Poi ovvio se ci sono dei problemi invece sotto proprio di gestione del cane nonché di relazione con il proprietario lì bisogna andare a lavorarci e magari evitare la treccia ma in linea generale quasi tutti i cani ringhiano mentre giocano con una treccia con una corda perché è parte di questa modalità di gioco e invece tanti altri proprietari appunto non la utilizzano e invece sarebbe bene utilizzarla perché questo gioco per quei cani che lo apprezzano ovviamente io ho uno dei miei due cani Leo che proprio se ne sembra infischiato della treccia altamente zero non la prendi in bocca neanche se lo paghi quindi ok dovete avere un cane un po' energico che ci voglia giocare è un ottimo modo per sfogare le energie e per giocare a qualcosa da mordere perché noi spesso facciamo solo i giochi di lancio rilanciamo il pupazzo la pallina quel che l'è ma non giochi di presa di morso invece questo è ottimo e se gestito correttamente è fenomenale come gioco per cani per chi lo apprezza poi 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 parliamo invece dei giochi ecco questi poi ci sono tutti i pupazzetti vari eventuali e ricordatevi un piccolo dettaglio che tutti i giochi sono distruttibili salvo quelli indistruttibili adesso ne vediamo anche due che per alcuni cani sono indistruttibili ma in realtà non per tutti iniziamo iniziamo proprio da questi va allora kong forse qualcuno di voi lo conosce forse qualcuno di voi lo conosce in versione rossa invece questo qua è nero questo qua viene chiamato kong extreme esattamente la stessa cosa della versione rossa la rossa diciamo tra le riguette è la prima non voglio dire originale perché anche questo è originale kong la rossa è la prima uscita poi hanno perfezionato diciamo così la miscela di ciò che lo compone ok che è il cachou e l'hanno dato in colore nero extreme perché è molto più resistente di quello rosso dal momento che l'obiettivo del kong non è farsi mordere dal cane anzi io consiglio di prenderlo sempre sovradimensionato rispetto alla bocca del cane ma l'obiettivo è metterci dentro il cibo che il cane deve far uscire un po' diverso da andare a mordere il gioco è meglio è sempre meglio usare comunque quello in versione extreme perché se il cane va a morderlo anche se non è quello l'obiettivo del gioco almeno abbiamo una resistenza maggiore viene spacciato come gioco indistruttibile lo è per la maggior parte dei cani diciamo che 9 cani su 10 effettivamente non riescono a distruggerlo in realtà ci sono alcuni cani dal morso forte che si ingegnano parecchio si impegnano anche che riescono a distruggerlo quindi bisogna sempre essere super sicuri prima di lasciarlo al cane quando noi non ci siamo altrimenti lo possiamo lasciare tranquillamente quando noi siamo a casa così teniamo il cane sotto controllo e quando ha finito di giocarci glielo possiamo tirare via prima che decida di iniziare a rosicchiarlo e a distruggerlo per il funzionamento esatto del combio vi rimando a un video dedicato anche a un articolo poi ve li linko sotto in descrizione in generale comunque si mette dentro della pappa meglio se umida e si dà al cane a disposizione il cane deve leccare l'interno e far uscire quello che c'è dentro un altro gioco molto molto carino sempre della Kong la Kong fa un sacco di giochi molto belli comunque è il Kong Wobbler scritto con la W anche di questo qua vi metterò il link ecco di tutti questi giochi qua che vi consiglio di tutto in generale i regali per Natale vi metterò il link direttamente ad Amazon in modo che se volete cercarli non dovete stare a impazzire in un negozio per animali online andate clicca Amazon vi arriva anche velocemente prima di Natale Kong Wobbler aspetta ve lo faccio rivedere mentre ve lo sfiego praticamente assomiglia come forma è la forma del Kong normale ma è molto più grande c'è in due versioni io consiglio sempre di prendere quella più grande small e large mi sembra che vengono chiamate perché il suo funzionamento è questo questa parte qua sotto è piena diciamo di sabbia sabbia che è in modo che fa da peso da contrapeso ok e questa parte qua sopra invece si avvitano le due parti tra di loro questa parte sopra è realizzata in plastica dura ed è cava all'interno vedete che c'è un buco voi da dentro il buco oppure svitandolo io mi trovo bene sinceramente da infilare dentro il buco ci mettete dentro le crocchette o piccoli snack secchi ovviamente che poi devono uscire oppure un mix di crocchette piccoli snack cosa succede il cane deve muoverlo con la zampa per il principio del peso questo torna sempre su e quindi con questo movimento il cane deve far uscire il cibo che c'è all'interno anche questo gioco non è propriamente indistruttibile anche se è veramente molto difficile perché un cane dovrebbe avere un'apertura della bocca tale per cui prenderlo da sopra e in qualche maniera romperlo non mi è mai successo questo però è successo con Jack Russell buttandolo giù dal divano riuscito a romperlo però avevamo preso la versione più piccola non quella grande quindi se prendete la versione grande anche qui state sempre attenti controllate il vostro cane le prime volte che lo date a disposizione che ci giochi bene e poi una volta che siete sicuri eventualmente si può utilizzare anche quando siete fuori casa fate attenzione con questo perché a differenza del Kong Stream questa plastica è dura quindi non è questa la miscela di Ko Chu con cui fanno il Kong normale che comunque risulta morbida al tatto questo qua è proprio plastica dura classica perciò se avete mobili di vetro vetrinette molto fragili andando a sbattere qua e là ecco potrebbe fare qualche danno poi fate attenzione però è veramente bellissimo i cani molto attivi lo amano tantissimo come gioco e se avete un giardino o un balcone con la ringhiera che non ci sia che casca giù quindi ringhiera stretta o muretto potete proporre lì questo tipo di gioco senza nessun pericolo per i mobili di casa è veramente molto apprezzato poi 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 parliamo invece sempre sulla falsariga di questi due giochi della pallaportasnack lo vedete tutti eccola qua è una palla questa qua realizzata in plastica morbida non è assolutamente indistruttibile anzi se il calo vuole la fa fuori in cinque mutinetti quindi bisogna sempre tenerlo d'occhio che non la prenda come un gioco da masticare il principio è lo stesso è una palla cava all'interno con un buco di fuori uscita e di entrata dovete per forza mettere crocchette o snack secchi all'interno del buco all'interno poi della sua cavità ha due barrette messe in questo modo che forma una sorta di labirinto voi prendete la palla vi mettete dentro le crocchette o i piccoli snack secchi o un mix di entrambi muovete un po' la palla in modo da far arrivare il cibo fino in fondo e poi la date a disposizione del cane che dovrà farla rotolare per casa per far fuori uscire il cibo questa palla è molto morbida quindi in questo caso non avete nessun tipo di problema con i mobili di casa ottimo regalo di Natale per tutti quei cani di taglia piccola e invece un pochettino sconsigliata per i cani di taglia grande soprattutto se tendono a mordere in quel caso è molto meglio il congobbler di cui ho parlato prima poi 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 andiamo avanti ancora altro gioco di attivazione mentale barra ricerca olfattiva diciamo così il tappeto olfattivo eccolo qui abbiamo preso uno ce ne sono tantissime versioni che si è andata a cercare su Amazon anche di questo vi metterò comunque il link in descrizione che cos'è un tappeto realizzato quindi in tessuto con diverse parti se movibili dove noi andremo a nascondere crocchette e o piccoli snack sempre secchi secchi non intendo i biscotti e dopo parliamo anche degli snack biscotti assolutamente evitateli come la peste io intendo sempre snack a base di carne essiccata quindi secchi in quel senso ma no biscotti roba farina acera che assolutamente fa schifo per i nostri cani quindi c'è un tappeto olfattivo questo assolutamente anche questo qua è distruttibile perciò lo diamo soltanto quando noi siamo presenti ottimo modo per far passare al cane il tempo quando noi magari stiamo cucinando stiamo facendo altro e lui poverino lì a fare niente a guardarci ok ottimo regalo di Natale tra l'altro un regalo di Natale abbastanza originale che possiamo fare tranquillamente a chi ha che conosciamo che ha dei cagnolini magari appunto ripeto di piccola taglia anche meglio perché c'è in grossa taglia con i tappeti olfattivi o ne prendiamo uno bello grosso resistente oppure magari li distruggono invece di giocarci cercando i buonconcini ok dicevo ottimo regalo molto carino originale altro gioco sempre di attivazione mentale questo qua molto carino eccolo qua vedete ci sono diversi scomp questi giochi qua a produzione diciamo così industriale ma nel senso che sono realizzati in plastica sono carini da tenerne magari uno due in casa non fatevi la collezione nel senso che il cane comunque una volta che ha capito come si utilizzano ci mette poco a farli piuttosto poi passate ai giochi di ricerca olfattiva cioè nascondete in giro per casa piccoli snack gustosi non ripeto biscotti senza neanche odore in modo che il cane poi vada in giro per casa a fare esplorazione e a cercarseli però comunque sono appunto un'idea regalo molto carina per Natale se non per noi anche per conoscenti amici e parenti parliamo quindi degli snack visto che ne stavamo parlando prima appunto evitate assolutamente biscotti di qualsiasi forma dimensione natura i biscotti per cani sono sempre realizzati in farina la carne l'hanno vista forse da lontano a volte neanche perché c'è un aroma di carne che non è carne ok quindi evitatevi come la peste in particolare ancora di più quelli sciolti alcuni negozi pariani hanno queste ceste tipo le ceste della frutta con dentro si snack all'aria secchi tutti di farina schifosi non prendeteli per carità invece vi faccio vedere un esempio di snack tutti a sua amazon ma ci sono queste scatole qua con tanti pacchetti queste qua in particolare sono striscette di anatra quindi vanno bene anche per cani che hanno problemi di allergia e appunto ci sono le scatole con tante confezioni quindi si va anche a risparmiare qualcosina piuttosto che andare in negozio e prendere la confezione singolarmente ottimi si presentano questi in particolare ma ci sono tantissime versioni poi cercate snack carne essiccata su amazon e trovate mille mila varietà dicevo sono delle striscette di anatra di carne di anatra essiccata a volte sono un po' dure queste tipo di striscette ma basta prendere una forbice invece che le manine e li tagliamo in tanti piccoli pezzettini e abbiamo risolto il problema che sono un po' duri sono assolutamente molto più salutari ok rispetto ai biscotti per cani quindi scegliamo sempre questo tipo di snack e noi i biscotti anche se vogliamo fare un regalo non prendiamo ma andiamo a prendere dei biscotti secchi non dico le marche ok in generale perché tanto sono tutti schifoli secchi andiamo a prendere qualcosa di gustoso per esempio abbiamo appunto degli amici parenti a cui vogliamo fare un regalino che hanno i cani possiamo fare un pacchettino regalo con un giochino e una bustina di snack buoni e magari gli schiediamo anche perché sono buoni perché invece i biscotti che usa il proprietario fanno schifo ok poi sempre in tema cibo se avete una ciotola in alluminio o in plastica è molto meglio se la cambiate non so se lo sapete l'alluminio spesso tende a dare un odore sgradevole e la plastica può rilasciare sostanze anche tossiche poi dipende anche dalla plastica come lavorata però nel dubbio perché non cambiare con una bella ciotola in ceramica magari a Natale è l'occasione appunto per cambiare queste qua come vedete hanno questo supporto qui in legno in modo da creare un effetto anti ribaltamento se non sbaglio proprio un set da due poi vi metto il link in descrizione sul canale youtube ciotole in ceramica molto più igienica e facili da pulire non rilasciano alcuna sostanza tossica e ripeto queste qua hanno anche questo congegno diciamo in legno anti ribaltamento perché ovviamente la ciotola in ceramica è molto più fragile di quelle in plastica e di quelle in alluminio se ci cade dalle mani si rompe non è che è questa magicamente intatta oppure se il cane la ribalta si può rompere o scheggiare eccetera però se la prendiamo con il senno di metterci appunto un sistema del genere è molto utile secondo me è un'idea geniale in modo che non si possa ribaltare così facilmente e noi faremo attenzione quando la tiriamo su si possono mettere anche in lavastoviglie tra l'altro le ciotole in ceramica senza nessun rischio ok poi 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 invece passiamo un attimino alla guinzaglieria beh ovviamente avrai già il tuo bel guinzaglio spero in versione d'addestramento nel senso sono quelle versioni con due barra tre anelli lungo la lunghezza che puoi accorciare e allungare a seconda di quello che ti serve non assolutamente al flexi quello allungabile con la maniglia pericoloso per centomila motivi magari poi ci farò un video dedicato perciò guinzaglio addestramento semplice in generale vengono chiamati da addestramento ed educazione l'unica caratteristica peculiare è questa sono lunghi due metri circa si fa la maniglia dalla parte dall'altra parte c'è il moschettone sempre da versione d'addestramento ma se il vostro cane tira il guinzaglio vi consiglio di farvi questo regalo per Natale questo qua è il guinzaglio d'Aitona della Fairplast ed è l'unico esistente al momento quantomeno completamente imbottito intanto appunto è versione d'addestramento quindi è lungo due metri da una parte c'è un moschettone con cui si fa la maniglia e dall'altra c'è un moschettone che si aggancia alla pettorina o al collare ed è tutto completamente rivestito su tutta la sua lunghezza di un'imbottitura morbidissima io l'ho usato e l'ho consigliato a tantissimi allievi col cane che tiravano ovviamente mentre lavoravano sul problema del cane che tirava il guinzaglio ma veramente tutti hanno sempre ringraziato averli fatto scoprire questo meraviglioso guinzaglio perché ti salva le mani perché avendo questa imbottitura così morbida il cane ti tira te intanto ripeto ci lavori con un educatore cinofilo ma intanto le mani non ti strisciano contro un guinzaglio normale che fa un male della miseria soprattutto quando c'è umidità o piove altro guinzaglio che potete regalare per Natale al vostro cane è la lunghina realizzata in bio biotan che è un materiale tipo silicone ok quindi completamente impermeabile e soprattutto ben lavabile la lunghina che cos'è non è altro che un guinzaglio normale nel senso ha un moschettone dalla parte alcune hanno la maniglia al fine altre non ce l'hanno o hanno un altro moschettone e lunga la caratteristica della lunghina è che è lunga permette di lasciare liberi cani anche al parco senza il rischio che non tornino al richiamo quindi è utilissimo per i cuccioli che stanno ancora imparando a tornare al richiamo è utilissimo per i cani da caccia che magari non ci tornano proprio al richiamo anche se abbiamo cercato di insegnarglielo è utilissimo per i cani nordici che a volte soprattutto shiba e akita che spesso volentieri del richiamo se li infischiano anche se abbiamo cercato di insegnarglielo in tutte le maniere possibili quindi se vogliamo lasciare libero il nostro cane permette di correre un po' e non abbiamo un'area cani vicino dove andare un'area cani occupata o siamo in un bosco ok non vogliamo lasciare libero il nostro cane e poi correre dietro alle lepri utilizziamo la lunghina perché in Biotan in particolare perché le lunghine esistono in nylon normale in tessuto normale diciamo del guinzaglio se prendi dentro una cacca con questa lunghina perché a un certo punto la lunghina sarà tutta srotolata ecco trovate come lunghezze da 5 ai 25 metri di lunghezza quindi non si sceglie dalla propria lunghezza dicevo una volta che è srotolata a terra il cane si muove da una parte dall'altra la lunghina striscia per terra se incontrate una bella cacca con quella di nylon togliere l'odore dalle fibre di nylon sarà un'impresa mission impossible invece con questa in Biotan quindi appunto ripeto tipo silicone completamente impermeabile non si infiltra niente da nessuna parte se beccate una cacca avete dietro due salviette pulite bene il guinzaglio poi a casa lo lavate meglio però avete già finito ok mentre quella in nylon si impregna dentro la fibra è abbastanza schifo ok quindi questo dal lato guinzaglieria poi non ho messo pettorine collare e quant'altro ma più che altro perché se volete fare qualcosa di bello cercate magari i siti che le fanno personalizzate prese le misure esatte ve le fate creare però penso che siamo un po' in ritardo al 10 dicembre per farle arrivare per Natale queste cose personalizzate perciò ho messo soltanto cose che riuscite a farvi arrivare tranquillamente per Natale molto utili e carine sempre parlando un attimino dell'abbigliamento se abbiamo cani che soffrono il freddo oppure che magari non lo soffrono qua in città ma in qualche maniera non so con lockdown adesso come funzionerà li vogliamo portare sulla neve maglioncino o meglio maglioncino che sia anche impermeabile quindi giacchetta io non sono tanto per i fronti maglioncini strani pizzetti vari no questa qua è della Urta una marca molto famosa per produrre abbigliamento per cani davvero molto bello un po' tecnico magari impermeabile dentro c'è un rivestimento che tiene caldo al cane ok quello grigio due buchi per le zampe sopra c'è un buco per far passare il gancio della pettorina nel caso e si chiude da sopra quindi molto più comodo anche per noi perfetto appunto cioè molto semplice lineare attenzione ovviamente di utilizzarlo soltanto se ne avete nella necessità poi se dovete andare proprio in mezzo alla neve in mezzo a due metri di neve ovviamente questo qua non basta ci sono proprio quelli che coprono anche tutte le zampe parte del collo eccetera però questo qua è quello classico che potete utilizzare tutti i giorni tranquillamente tipo in questi giorni che ha diluviato per quattro giorni quello andava benissimo ok vediamo un attimino sì mi sembra che sia no la penultima cosa attenzione se volete fare un bel regalo al vostro cane se non ce l'avete già una bella cuccia per cani questo modello qua mi è sembrato davvero davvero molto carino davvero molto carino come vedete ha una forma rettangolare con tutto in tessuto quindi non c'è la parte fuori in plastica dentro c'è un bel cuscinone lavabile e come vedete appunto forma rettangolare bella grande un punto dentro un po' più basso e poi per il resto la parete è formata proprio dal cuscinone secondo me è la versione migliore di cuccia perché il cane ci si può cucciare dentro se vuole può anche stiracchiarsi buttare fuori le zampe perché non c'è il limite delle cucce quelle in plastica che ovviamente sono fastidiose se ci butta sopra le zampe tutta in tessuto anche ragomitolare molto tranquillamente stando al caldo ed è lavabile quindi ha tutte le caratteristiche ottime per una cuccia per cani ovviamente poi questa qua è un tipo che vi linkerò sotto nei commenti ma ce ne sono mille mila altre che potete trovare nei negozi per animali mi raccomando di prendere sempre una cuccia che sia sovradimensionata rispetto alle dimensioni del cane quindi non prendetemi una cucchettina piccolina dove poi il cane come tira una zampa è metà fuori dalla cuccia ok prendete sempre una cuccia che sia molto grande rispetto al cane non neanche enorme perché se no giustamente non tiene più caldo però un pochino sovradimensionata rispetto alla sua misura e l'ultima cosa questo qua è un regalo un po' più per noi che per il cane la spazzola raccoglie i peli quindi per tutti quei proprietari che hanno mille mila peli del cane in giro per casa in particolare sul divano sul letto sui vestiti questa spazzola qua va benissimo la faccio vedere un attimino poi vi metto anche il link di questa qua direttamente ad Amazon come vedete ha questo spazio qua che è un tessuto raccoglie i peli molto molto efficace ha un manico e dietro non si vede in questa foto ma c'è uno sportellino per aprirla e pulirla molto molto facilmente costo contenuto efficacia massima ok quindi anche questa qua può essere un'idea regalo sia per noi ma anche se conosciamo persone che si lamentano dei peli in giro lasciati ai propri cani diciamo ecco qua la spazzola con gli peli se non ce l'hanno già ok spesso volentieri si prendono quelle un po' appunto cinesate piccoline questa qua invece è molto robusta molto efficace dicevo mi sembra mi sembra che ci siano detti tutto ovviamente non ecco ho parlato di tutto quello che c'è a disposizione per cani che potremmo regalare ho cercato delle cose più belle più utili soprattutto poi le varie chincaglierie a tema cani che possono essere dei t-shirt il porta candela che ne so i sotto bicchieri ci sono mille mille cose ok a tema cane quelle lì sono così le chincaglierie appunto molto carine ma che possiamo andare a trovarci dovunque basta che scriviamo oggettini a tema cane ciao ci esce il mondo su google quindi non mi sono voluta soffermare su quelle cose appunto ho selezionato alcuni giochi che magari non conoscevate alcuni accessori magari appunto la lunghina piuttosto che il guinzaglio imbottito che tanti non conoscono e come vi ho detto adesso vi metterò tutti i link direttamente in descrizione sul canale youtube se volete cercare il canale cercate Simona Bosio Cane il canale Play Dog & Cat dovreste trovarlo tranquillamente così vi ricordo che potete chiedere la guida ai giochi per cani in regalo sul sito addestramento canimilano.org nella sezione guide basta iscrivervi alla newsletter whatsapp e vi arriva la guida in regalo così anche lì vediamo ecco questo mese le dirette saranno soltanto questo giovedì e il prossimo il 17 sempre alle ore 11 visto che poi ci sono tutte le varie festività ci rivediamo poi a gennaio e gli auguri di Natale ci rifacciamo il prossimo giovedì ho voluto fare questa diretta prima perché appunto così avete modo di eventualmente acquistare questi simpatici regali per Natale in tempo che già adesso alcune spedizioni non funzionano speriamo di queste qua tutte sì che arrivino prima di Natale soprattutto più che funzionino ok se avete domande potete scrivere anche in un secondo momento nei commenti io vi ringrazio di avermi seguita anche oggi ci vediamo prossimo giovedì alle ore 11 sempre qua va bene ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti